Perchè tanto qua era il buchetto Ok, ah la chiesa era qua Che ma, le mie caratteristiche Dove le potenzio Eh, le potenzio delle caratteristiche Era il signore là, no? Il signore all'entrata, no? Allora qua andiamo verso nord Qua c'è qualcuno Può essere buono come può essere cattivo Nel dubbio, ero cattivo Era uno del soldato ed altro Qua che c'ho qui con le fiancole E sarà di... No, vabbè, mi tengo il mio Ciao, ma è proprio Qua c'è un buco Controlliamo un attimo Che non ci sia Non è interessante Un uccellotto Un gufo Ma che bello Ma che bello che sei No Bastardo Erba, erba Eh, erba Erba Ok 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 Ok, va beh Qua c'è un'altra grotta Vediamo Caverna di Latibosco Tottiamo la granca Eh Ma quando c'è tutto buio Ah, perché forse era la fiaccolina Che io non ho Ma questi lupetti No, ti prego i lupi no Oh, come si è salito Io, se una cosa che devi più Sono i lupi Vabbè, state là No, adesso voglio vedere Quanto va in profondità Al buio Minchia Non l'avevo visto Adesso è più grosso Degli altri Non potrei togliere la mia mangiuglia Ma che tu fai male? Allora Allora Se è così buio Lucciola Ah, posso prendere le lucciole qua? Runa Aurea Questo era un accampamento E qua L'hanno presi tutti Qua sono finati E no E no Allora Se continua così buio Mi conviene Mi conviene Per me non là Anche perché qua Provo a correre attraverso Ma che bella schivata Il Qu ami D ma quanto ha scattato se lo butto in linea retta ma dai ma tu ti me la schivate urla urla no 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 non c'è prova e more dalis mano al drago di fuoco allora ah già finito qua la gratticina vediamo questo talismano do gazzosta incrementa le stesse danni da fuoco ok al momento non ci serve ma mi fa piacere ah non aveva neanche recuperato le anime e qua lo spazio era molto largo per combattere grazie a tutti 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 grazie a tutti